Siamo in compagnia del professor Guglielmo Cevolini, buonasera professore, grazie per essere tornato a trovarci, docente di diritto privato, diritto pubblico, sapevo che sbagliavo, i miei trascorsi di legge non sono stati certamente proficui, docente di diritto pubblico all'Università di Udine, nonché presidente di storia, con il quale però quest'oggi parliamo non tanto di questioni che hanno a che fare con l'attualità storico-politica internazionale, se avremo tempo lo faremo, però parliamo di una figura molto importante per, come potremmo dire, anche per la cultura triestina, ma non soltanto, che è la figura del professor Antonio Sema che è scomparso ieri, dieci anni fa? Dieci anni fa, sì, il 31 di luglio del 2007 è mancato per una malattia invalidante che l'ha annientato in poco tempo e diciamo noi abbiamo fatto qui un convegno a Trieste, pochi mesi dopo la morte di Antonio, alla Lega Nazionale, con l'IRCI, con la libreria editrice goriziana, con Istoria, con la sua nipote che abbiamo anche invitato poi in un'altra commemorazione che abbiamo fatto invece a Cercivento, cioè Maria Spano Vangelis che è una sua nipote e che nell'altra commemorazione che invece abbiamo fatto l'altro ieri, cioè a venerdì 28 luglio a Cercivento, nell'ambito di una manifestazione che facciamo ogni anno Cervelli in Movimento e lo abbiamo ricordato anche a Cercivento perché pochi chilometri da lì a Paolaro lui è stato insegnante e quindi ecco c'è un collegamento un po' tra il Friuli e Trieste ovviamente che era la sua città, c'è un collegamento anche con il Friuli per questo fatto perché è stato lui con lui che siamo partiti con il primo corso di geopolitica a Pordenone siamo ormai al 21esimo nel 2017 corso di geopolitica e quindi fino al 2007 abbiamo sempre avuto l'aiuto di Antonio. Queste immagini che stiamo vedendo in... Allora questa immagine qui, questa immagine si riferisce al convegno che è stato fatto a Trieste nel febbraio del 2008, quindi subito dopo la scomparsa, ma vedete quanti si sono uniti a noi e tutti hanno riconosciuto il ruolo importantissimo di Antonio per la storia, per la storia militare e per la geopolitica. C'era anche Lucio Caracciolo quella volta a Trieste nel 2008. Qual è appunto il contributo di SEMA all'interno degli studi di geopolitica? Allora all'interno degli studi di geopolitica me ne sono occupato un po' proprio venerdì scorso ho ripreso un pezzo di un saggio che abbiamo pubblicato come storia in questo volumone enorme Fenomenologia di una macro regione curato dal professor Giuseppe De Vergottini che è il mio maestro che è di origine di Parenzo, il sottoscritto e poi un altro collega dell'Università di Verona, Ivan Russo. In questo volume c'è un contributo di Lucio Caracciolo sulla geopolitica dell'Alto Adriatico e un capitolo dedicato ad Antonio SEMA, gli studi sulla geopolitica di Antonio SEMA. In questi studi diciamo Lucio Caracciolo sottolinea alcuni aspetti interessanti dell'interpretazione di Antonio sull'Alto Adriatico. Sottolinea in primo luogo un articolo fondamentale che è comparso nel primo numero di Limes e che è dedicato proprio a Trieste, a ruolo del porto di Trieste, al rapporto con il porto di Capodistria, al problema che Capodistria è il porto, stava diventando il porto di una nazione e quindi questo influenzava molto la geopolitica e ecco anche qui da questo punto di vista Antonio dice delle cose molto importanti, sempre originali, non sempre condivisibili almeno nel senso che io non sempre le condivido ma sono sempre posizioni originali e da studioso cioè comunque approfondite. Lui per esempio dice per quanto riguarda l'Alto Adriatico che non bisogna che una piccola politica estera del Friuli o del Veneto o addirittura lui evidenzia una sembra premonitrice con riferimento alle cose che sono accadute per esempio per la Camera di Commercio di Udine, di Trieste, di Pordenone. Adesso addirittura una politica estera addirittura lui dice comunale di Pordenone, di Udine e così toglie un ruolo alla politica estera nazionale ma questa politica estera nazionale per Antonio con riferimento al confine orientale era la seguente il diritto di Trieste di condizionare la politica estera nazionale del confine orientale, diritto di Trieste. Anche condizionare voglio dire non è un termine. È un termine della geopolitica cioè si sa che la geopolitica tende a accentuare gli interessi, tende a declinarli, tende a darne una sequenza quasi logica e con una forza anche diciamo assertiva, impositiva. Ecco su questo versante Antonio aveva le idee molto chiare e aveva sempre una posizione dal punto di vista dell'Italia. Ancora oggi il nostro paese fa fatica a discutere in termini di interesse nazionale. Antonio conosceva tutta la letteratura internazionale su questi argomenti, sul fatto che la geopolitica si qualifica attraverso una riflessione sull'interesse nazionale e da buon studioso si chiudeva nella sua cantina dentro il bunker diceva e stava a studiare quali erano gli interessi nazionali e poi usciva con questi articoli spesso illuminanti sull'IMES. Ecco faceva il lavoro che dovrebbero fare alla Farnesina per certi versi o i servizi segreti o soggetti di questo tipo ecco. E' come se ci fosse una ma vabbè probabilmente non era di origine istriana. Era di Pirano era di origine istriana e su questo versante aveva anche delle posizioni diciamo un po' dure nei confronti dell'Istria. Su due versanti. Primo versante sugli esuli lui era un tifoso di Hezbollah, lui era un tifoso dei Viet Cong, lui era un tifoso di chi combatte per la propria terra in una maniera anche con la guerriglia. Quindi per chi combatte per la propria terra rischiando la vita nel modo più duro possibile e anche con un atteggiamento di tipo romantico perché era un po' la lotta di Davide contro Golia spesso no? E quindi parteggiava per il debole per certi versi. Era un aspetto così romantico anche molto delicato per certi versi però ecco nei confronti dell'Istria un po' ce l'aveva su perché diceva gli esuli se ne sono andati diceva Hezbollah rimangono lì e combattono fino all'ultimo per e su questo forse non aveva compreso come la gente anche istriana era gente anche molto pacifica aveva visto cambiare diversi colori diverse bandiere diverse cose era sempre rimasta su quel territorio non avendo percepito però che cos'era la polizia etnica ecco che cos'erano quelle traiettorie quindi l'altro versante sul quale non era tanto diciamo e sempre riguarda l'Alto Adriatico non era tanto generoso nei confronti dell'Istria era anche quando c'è stato il regionalismo istriano con la dieta democratica istriana così diceva attenzione non la dieta non rappresenta interessi dell'Italia ed è solo una quindi questo regionalismo istriano era visto male perché diceva ci fa diventare subito immediatamente troppo nemici sloveni e croati senza rappresentare veramente l'interesse italiana è una posizione delle posizioni questa è logicamente non simili perché poi dopo certamente non si può parlare di similitudine eccetera però ricordano per certi aspetti quantomeno perché vanno contro perché andavano contro corrente rispetto ad un mainstream ricordano un po le posizioni di Tomizza sì di Tomizza anche poi ha avuto anche un collegamento diciamo con Magris su questo versante nel criticare per esempio il concetto da triestino di Mitteleuropa cioè Magris con capacità illuminante vede nella Mitteleuropa un concetto non spendibile politicamente adesso e quindi Sema cosa diceva non è spendibile politicamente adesso e dal punto di vista triestino è anti italianità dal punto di vista dell'Austria diciamo è nostalgia dell'Austria-Ungheria tutta roba che non è utile non serve era molto pragmatico su questo versante ma molto attrezzato perché per esempio si accompagnava per esempio a Magris ecco anche Tomizza diciamo che molto probabilmente sono le posizioni di anche di Beitiza forse di mutatis mutandi di persone che comunque conoscono molto la complessità di queste questioni sembra anche no professore quando noi parliamo di determinate di determinate figure no Tomizza magari da un punto di vista più letterario anche quello era fondamentalmente il suo contributo forse era un contributo politico mascherato da mascherato da contributo letterario però insomma lo stesso lo stesso Sema eccetera che in qualche modo da un lato mancano per farci capire come funzionano le cose eccetera d'altro canto se noi analizziamo determinati scritti in un certo modo segnano i tempi e abbiamo però anche le basi eventualmente per per portare avanti un certo tipo di analisi sì allora infatti è utilissimo studiare Antonio Sema pensiamo alle riflessioni che ci sono adesso sul porto di Trieste sul ruolo del porto di Trieste e pensiamo alle dinamiche che si stanno sviluppando proprio con riferimento al porto di Trieste sul rapporto tra Trieste e il Friuli abbiamo richiamato prima la questione delle camere di commercio ma adesso in futuro ci sarà a ottobre una construction conference per esempio che fatta a Udine che avrà come riflessione un po' la presentazione del Friuli come retroterra del porto di Trieste anche oggi leggendo sul piccolo la dinamica sempre delle camere di commercio emergeva questo aspetto qui oppure leggendo anche le relazioni con riferimento alla polemica un po' sui leader del centro-destra per esempio tra Friuli e Trieste anche lì per la candidatura alla presidenza della regione sono tutti argomenti che possono avere in Antonio, negli studi di Antonio, dei punti di riferimento molto chiari lui infatti si è occupato anche della questione più in generale oltre che dell'Alto Adriatico che comporta questioni di confine, questioni di porto, cose molto triestine per certi versi anche una riflessione più generale su che cosa? sulla questione settentrionale diciamo sulla secessione, sul regionalismo, sull'autonomismo ecco ha riflettuto molto su questi temi per esempio per quanto riguarda la secessione facendo, sottolineando come le posizioni di Bossi e anche di Maroni in certi casi erano attrezzate culturalmente come ad esempio una secessione morbida alla cecoslovacca oppure una cosa di attualità aveva evidenziato come Maroni cercava di spingere per i referendum autonomisti che sono di attualità oggi perché noi ne avremo il 22 di ottobre il referendum sull'autonomia del Veneto e sull'autonomia della Lombardia e il primo di ottobre avremo molto probabilmente anche se c'è una notizia di attualità sulla Catalogna avremo molto probabilmente il referendum della Catalogna sull'indipendenza la possibilità prevede anche di dire che i catalani scelgono per una Spagna più federale sono diverse opzioni però oggi c'è stata una sentenza del Tribunale Costituzionale Spagnolo che ha bloccato la legge con la quale in Catalogna stanno per indire questo referendum per l'1 ottobre però ecco erano tutte questioni che già negli anni passati nel 1993 erano all'ordine del giorno e Antonio le interpretava sempre con questa ottica quella di sottolineare come queste questioni portano poi a quello che è accaduto per l'ex Jugoslavia cioè alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia e per quanto riguarda l'Alto Adriatico alla balcanizzazione dell'Alto Adriatico balcanizzazione dell'Alto Adriatico che per certi versi si sta realizzando in parte con la questione sugli spazi marittimi ecco con le dichiarazioni unilaterali da parte di Slovenia, di Croazia, del mare e per la questione dei confini che ancora trovano difficoltà a risolversi da dove mi diceva prima che incominciassimo che Seman si è occupato anche di un diciamo di un argomento come credo sia i fatti di Genova Sì, uno degli ultimi suoi articoli è stato proprio dedicato a Genova e lì ha interpretato i fatti di Genova studiandoli dal punto di vista della guerriglia urbana veramente come lui ha studiato e ha trovato anche delle nuove traiettorie di studio con riferimento alla Grande Guerra ci sono nelle immagini anche che poi abbiamo dei suoi libri proprio dedicati alla Grande Guerra molto importanti editi dalla libreria editrice goriziana soprattutto così con la conoscenza della guerra e della guerriglia lui ha interpretato i fatti di Genova del G8 di Genova prima di tutto come guerriglia urbana poi anche sul versante della disinformazione e sul versante anche della guerra psicologica anche guerra psicologica perché per esempio da una parte era stato sottolineato la possibilità da parte dei dimostranti di lanciare del sangue contaminato dall'AIDS per esempio come armi dall'altro lato come guerra psicologica tutta una serie di pressioni che sono state fatte ai manifestanti prima ancora che arrivassero a Genova poi guerra psicologica e guerriglia per certi versi perché c'è stata un'infiltrazione delle forze diciamo di polizia, dei carabinieri nei manifestanti che ha comportato tutta una serie di problematiche come poi la qualificazione di una sorta di sconfitta dal punto di vista militare per quanto riguarda la guerriglia urbana da parte delle forze di polizia e dall'altro lato però il risultato ottenuto secondo Sema anche qui sempre in una prospettiva molto anticonformista di annichilimento secondo lui del movimento del Genoa Social Forum attraverso l'accentuazione del ruolo dei black bloc che ha quindi fatto passare in secondo ordine tutti gli argomenti di discussione tutti gli aspetti del forum sociale per i quali lui tifava in funzione anti-americana perché lui era sempre molto anti-americano noi dobbiamo, quando parliamo anche di quell'estate dell'estate del 2001 dobbiamo dimenticare che di lì a pochi a nemmeno un mese e mezzo di distanza ci sarebbero due mesi, ci sarebbe stato l'11 settembre per cui insomma siamo veramente quella fu un, si diceva anche che non forse, non una prova generale ma comunque c'è qualcosa in questo sempre dovuto anche al suo antimaricanismo nel sottolineare alcuni aspetti Antonio del ruolo della CIA secondo lui nel G8 e poi un'altra riflessione di Antonio sarà posteriore ovviamente all'11 settembre e sarà dedicata al terrorismo e alla guerra in Iraq nel 2003 lui scrive un saggio nel 2004 dove analizza molte questioni relative a Saddam Hussein al partito Ba'at all'Islam il ruolo dell'Islam in quella guerra è veramente sempre profondo e per certi versi anche lì un po' anticipatore di quello che poi è successo dopo con l'Isis cioè quell'utilizzo che c'è stato da dove lei diceva quando si parla sempre del clima che precedette Genova e che forse diciamo così sotto certi aspetti portò a quello che successe in Piazza di Monda cioè alla morte di Giuliani eccetera io ricordo purtroppo devo dire purtroppo perché secondo me tutto ciò vide coinvolta anche una certa intelligenza del nostro paese io ricordo che c'era un battage continuo dove molti dicevano che se non si andava a Genova in quel periodo per far casino non si era niente eccetera eccetera quindi secondo me un ragazzo come Giuliani probabilmente come dire più più indifeso da un certo punto può aver interpretato anche questi proclami in un certo modo Antonio su questo fa un passo indietro e cerca di essere asettico e intanto lui è andato a Genova non stava già bene ma è andato lo stesso a Genova a vedere ha fatto delle mappe poi con Laura Canali che sono state pubblicate su Limes e l'elemento di sconfitta della polizia è proprio per non aver saputo difendere i manifestanti pacifici secondo Antonio è veramente profondo e su questo lui fa un po' un passo indietro perché sicuramente tifava per diciamo anche sotto insomma personalmente ne abbiamo parlato quando lui è andato sia prima che andassi sia quando è ritornato ne abbiamo parlato personalmente lui tifava per gli oppositori diciamo per i manifestanti ma ha cercato di essere il più assettico possibile è una caratteristica che 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 era gli era precipua cioè quello si sapeva più o meno da che parte stava ma cercava sempre di essere di essere assettico tra l'altro la interrompo anche per un'altra cosa non so se lei ha seguito a me sembra veramente un pochettino strano forse ci sono dei forse ci si sta muovendo sotto traccia che è la cosa migliore però insomma ci sono sei sei italiani che sono ancora in carcere in Germania per quello che è successo durante il durante il G20 c'è un ragazzo anche di 18 anni di di felter insomma francamente oltretutto sembra che non siano stati presi in fragranza di di nulla erano a volto scoperto eccetera eccetera sono stati arrestati dalla polizia tedesca alcuni tedeschi sono stati e poi messi agli arresti domiciliari questi sono se ne sono sei di italiani sono ancora fuori sono ancora detenuti non so io allora io su questo riferisco le valutazioni che derivano da un po' dalla conoscenza qualche volta di qualche capo della polizia che mi è capitato di incontrare in questura in prefettura per ragioni di formazione come giurista e anche unisco anche le osservazioni che mi ha fatto mio fratello che è stato nel battaglione dei carabinieri di Bologna che ha fatto ordine pubblico quando si fa ordine pubblico chi viene preso vengono presi sempre i meno coinvolti spesso perché perché quelli furbi quelli smaliziati fanno le cose più brutte e scappano via e mandano e lasciano questi e quegli altri vengono poi la pagano quindi se uno è pacifico è meglio che non vada perché rischia purtroppo c'è da dire che rischia di prenderle di più degli altri proprio perché spesso addirittura i capi lanciano il sasso e nascondono la mano scappano via e sanno come fare e purtroppo poi quando c'è la reazione per disperdere i manifestanti sono delle dinamiche particolari ecco su questo ecco anche Antonio faceva degli studi così mi è stato riferito su queste cose bisogna essere molto aggiornati perché cambiano le strategie da manifestazione a manifestazione si aggiornano per esempio c'era un periodo nel quale erano invincibili per due o tre volte i manifestanti con questi copertoni di trattori gonfiati che andavano e spingevano contro le forze dell'ordine non sapevano come reagire di fronte a questi copertoni e allora da un lato mi spiegarono usarono delle tattiche dei soldati romani cioè una rotazione una sorta di rotazione spinge e tira in pratica li giri e li fai trovare quelli che spingono con questi copertoni entrano a cerchiare in un cerchio vengono acerchiati dall'altro lato più genialmente e praticamente però in maniera un pochino illegale mi disse un poliziotto che un'altra tecnica era quella di con un piccolo coltellino che comunque anche forse fuori ordinanza si dà un colpo a quel pallone e scoppia tutto e subito è finito ecco però questo era molto importante infatti Antonio per esempio sottolinea come la polizia italiana i carabinieri italiani non hanno fatto tesoro delle manifestazioni del precedente di Göteborg perché c'era già stato un po' di caos a Göteborg era già stata una debacle di quel tipo e non avevano fatto tesoro speriamo che la diplomazia italiana lavori per questi ragazzi perché ripeto al di là del fatto che se hanno commesso qualcosa poi dovranno pagare nel nostro paese però francamente un ragazzo di 18 anni io purtroppo io devo dire per esempio ho in mente a Valencia delle manifestazioni studentesche di ragazzi di 15-16 anni lì noi abbiamo un volto sia del Partito Popolar che anche delle forze dell'ordine un po' spagnole sono in realtà un pochino pesanti e anche il Partito Popolare è un pochino cioè non è una democrazia cristiana è un po' più un po' più forte e ho un ricordo proprio del capo della polizia che per esempio parlava di questi manifestanti ragazzi di 15-16 anni come nemici abbiamo sconfitto i nemici ecco questo è un atteggiamento che non può essere e non è normalmente delle forze democratiche penso anche della Germania certo io ho visto lavorare a Berlino la polizia tedesca per esempio con riferimento al fenomeno delle tre carte cioè quelli che giocano le tre carte da noi la Cassazione quasi ha trovato il modo di fargliela far franca invece lì io ho visto uno, due, tre sono arrivati in un attimo con un furgone li hanno distesi per terra con una pistola puntata alla tempia e li hanno arrestati cioè sembrava un film di ecco c'è un modo la polizia leggermente diverso adesso non lo so su questo versante sicuramente nei confronti di giovani minorenni sicuramente maggiorenni di pochi mesi insomma speriamo che bisogna intervenire con la diplomazia e vedere che prove ci sono per i gravi fatti fatto salvo che si hanno combinato qualcosa di illegale eccetera poi la scontano qua ecco insomma quindi poi io dico che secondo me a 18 anni uno ha anche tutto il diritto di essere persino un po' stupidino insomma purtroppo però per il diritto dopo paga da un giorno all'altro si passa un po' volevo chiudere abbiamo ancora due minuti professore lei ha accennato alla figura di Enzo Bettizza in qualche modo paraguagale c'è un Bettizza non era popolarissimo quanto può secondo lei le chiedo magari un giudizio più letterario che non che non da storico o da giurista quanto può dipendere questa mancata popolarità da una scrittura piuttosto pesante Bettizza non era facile da leggere non era Montanelli io non penso che derivi solo da quello ma da anche una certa originalità da una certa certo modo anche di vedere anche le questioni del confine orientale molto particolari gli spiriti controcorrente non hanno mai purtroppo un grande successo se non dopo ma dopo molti anni per esempio per Antonio direi che ringrazio tanto Telequattro perché da emittente Triestina ha fatto veramente una bella cosa nel ricordare oggi Antonio Sema perché la città non l'ha tanto ricordato non ho letto niente sul piccolo su questo se noi aspettiamo che la città ricordi però la città ha un grande spessore culturale lo vedo anche attraverso questa trasmissione Trieste in diretta e anche lei è colpevole su questo versante per teatro letteratura cinema e tutto quindi c'è un grande spessore culturale e bisogna però non si riesce mai nemo profeta in patria vabbè però se facessi l'elenco di tutti i triestini che non vengono ricordati nemmeno con una targa nemmeno con una che ne so nemmeno con un post-it ne avete parlato anche in una recente trasmissione perché io vi seguo del rinominare le vie qualcuno ha proposto di rinominare di rinominare di via Cadorna Cadorna e così via beh su quello poi magari possiamo anche vedere la prossima volta discutere di questo perché è una cosa non da poco laddove invece noi penso che dovremmo vederci ancora forse quando si vota in Germania mi pare il 23-24 insomma quei giorni lì nei giorni 20 di settembre ok io sono in ferie fino al accidenti beh subito dopo subito dopo che così abbiamo già i risultati anche perché così analizziamo anche quello che sta combinando sto Macron anche perché Macron ci ha un pochino tradito rispetto alle nostre riflessioni ci aspettavamo molto europee non solo per Lino alla gioia che ha fatto quando ha festeggiato ma per tutto il suo programma che era e invece l'abbiamo visto è una versione giovanile o rinnovata di Giscard d'Estaing no? è forse il più ma io temo che il problema sia che la Francia si considera la Repubblica e qui su questo più che Giscard d'Estaing c'è richiamo De Gaulle che un pochino ha fatto per certi versi forse più sotto traccia ma anche in qualche caso direttamente Macron nonostante sia un'origine diciamo più tra virgolette di sinistra la sua però si è richiamato ad alcuni discorsi di De Gaulle e quindi allora capisco bene certe cose allora professore grazie per essere stato con noi grazie a voi ci vediamo a settembre grazie a tutti